Buongiorno, benvenuti, benvenuti alla presentazione di questo piccolo saggio, agile saggio da leggere con lentezza, del professor Beccaria, notissimo linguista, per quelli della mia età anche noto volto televisivo di Parola Mia, poi se voi scorrete la sua bibliografia ha scritto decine e decine di saggi sulla storia della lingua italiana, della letteratura italiana. Questo è un agile saggio, un pamflet che si intitola In contrattempo con il sottotitolo Un elogio della lentezza. Il sottotitolo dice molto, siamo in epoca di grande accelerazione, la tecnologia ci rende accelerati, viviamo molto velocemente perché non solo la tecnologia ma anche i ritmi della vita moderna ci impongono di vivere con grande velocità. Il professor Beccaria fa un modesto consiglio di riflettere sul valore della lentezza, non per tornare indietro ai bei vecchi tempi, quindi rigettare tutto ciò che di comodo e di utile c'è nella modernità, che di fatto c'è perché comunque la tecnologia è davvero un grande aiuto alla nostra vita, ci toglie un sacco di problemi, ci rende tutto più facile. Ma per riflettere sul valore intrinseco della lentezza, quindi non abbandonare la velocità ma riflettere e recuperare il senso profondo della lentezza. E recuperarlo attraverso una delle attività che forse maggiormente condensa in sé l'essenza della lentezza, cioè la lettura, la scrittura, il libro, cioè tutto ciò che ha a che fare con il rapporto silenzioso di noi con questo oggetto. Forse l'unico rapporto che ci resta in questa modernità molto rumorosa, molto chiassosa, appunto molto veloce, è di rimanere davvero in silenzio per un lungo lasso di tempo, in solitudine con noi stessi, ma con qualche cosa, con una presenza, che è appunto il libro, l'autore, la parola scritta e ciò che l'autore ci vuole raccontare. Però io vorrei lasciare la parola al professore, insomma dialogheremo su questo, poi vi ricordo che alla fine, alla fine di questo nostro incontro c'è un firmacopie che si fa qua, cioè qui, qui, così mi hanno detto. Poi naturalmente sarà il contrario perché è sempre così, no, comunque è sempre l'improvisazione. Ecco, dicevi appunto, l'elogio della, dicevo, l'elogio della lentezza è sostanzialmente un elogio della lettura e della scrittura, sostanzialmente, o no? Sì, noi bisogna forse, forse della. Buonasera a tutti, grazie a vent'avoli di aver accettato di presentare, di parlare di questo mio piccolo libro, che dice Nelle vele, a cui sono molto affezionato, perché la seconda vela che faccio, la prima si intitolava, sai che ho dimenticato, dove è Bosco? Si intitolava, mia lingua italiana, che è un verso, il primo verso di una poesia di giudici. E questo non è il titolo in controtendenza, ma in contrattempo, in contrattempo. Si sviluppa intorno a, forse, cinque temi centrali che tu anticipavi in parte. Cioè, uno è, appunto, quello che dicevi, l'indugio, l'attenzione, la lentezza, non relativa certamente all'andare a piedi, oppure, no, io parlo del mio mestiere, e quindi parlo di libri, parlo di lettura, faccio un elogio del libro, insomma, si potrebbe anche dire, a volte che da lentezza, perché senza attenzione non si va da nessuna parte, si capisce. Quindi è un elogio della filologia, se volete, questo libro. Un elogio del libro visto e dalla parte del lettore e dalla parte del facitore, dalla parte dello scrittore. Cioè, chi fa il libro e chi lo legge. Poi è un capitolo molto in contrattempo, molto contro il pensiero unico, perché lì non c'è né destra né sinistra che tenga, dedicato alla scuola, forse il più in contrattempo, ma dico cose di cui sono convinto profondamente. Un altro tema di questo libro, di questo libretto, è, visto che siamo in un momento di declassamento, possiamo dire così, dell'umanesimo, degli studi umanistici, un elogio della letteratura e i vantaggi che ha la letteratura su tutta un'altra serie di, o tipi di scritture. Questo direi che è il terzo tema. L'altro è l'elogio del fare, del fare scrittura, cioè del fare letteratura, dello scrivere, dello scrivere, del costruire. E infine, un elogio, è questo sì, il contrattempo dei classici, l'idea, ma ne parliamo, insomma, che senza il passato non costruisce il futuro, che poi nulla di nuovo, insomma, ma sul fatto che tutte le storie, tutto sommato, sono state scritte, se ci si guarda indietro, si tratta soltanto di riscriverle, rinnovandole. Non dico come dice De Luca, dico al massimo possiamo aggiungere una virgola, un punto e virgola, che è troppo naturalmente, ma in effetti non è che ci si possa improvvisare scrittori, come dice io, faccio l'alpinista, vado su con le scarpe alla ginnastica, senza i ramponi, senza, insomma, è un mestiere scrivere. E ci vuole una, insomma, se non leggi non scrivi. Infatti, questo è il punto importante, cioè, perché noi siamo un paese di scarsissime letture, cioè siamo in fondo alle classifiche, insomma, siamo a livelli forse anche più bassi di paesi africani, però siamo un paese dove si scrivono 60 mila e passa libri all'anno, quindi la gente scrive, scrive tantissimo, però l'equivoco è che se tu non leggi, se tu non sei un bravo lettore, non puoi scrivere. Anche gli stessi dati, guarda, io prima di, proprio alla fine, l'ho aggiunto questo telefonato all'editore, dico, ma dammi gli ultimi dati dell'Istat, gli ultimi dati dell'Istat, per quanto riguarda l'Italia, quindi la lettura riguarda il libro, sono incredibili, cioè è un mercato anomalo, cioè noi produciamo circa 230 titoli nuovi al giorno, questi sono gli ultimi dati, 230 titoli al giorno, dati Istra 2020, il 30% dei quali vende zero copie, quindi conferma quello che tu dici, insomma, non si legge, e il 41,4%, e questi libri sono appunto fatti per una popolazione di cui il 41,4% della popolazione sopra sei anni, legge un libro ogni 12 mesi, ogni anno, quindi voglio dire anche un fatto legato a questa situazione di non leggere, poi ci sono tantissimi altri motivi, insomma. Ecco, appunto, tu fai un elogio comunque partendo dall'elogio della lettura, della scrittura e di ciò che è l'oggetto che contiene questa, contiene la possibilità di leggere e di scrivere, cioè, appunto, il libro, ma il libro, al di là di questa montagna, è proprio il grande assente come oggetto, cioè il libro lo si vede pochissimo, cioè, non so, tu vedi in televisione la gente che, a parte i direttori dei giornali, che hanno sempre la scrivania, ma solo loro, però tutte le... Ti ricordi quella di Orenco per citare un amico, lui scontava dietro quelle montagne, non so la tua se è così, ma sarà una cosa... Peggio, 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 ma è per colpa della Cammillini che mi manda tanti libri, che lei è colpevole. Ecco, però, l'oggetto, appunto, il libro, al di là appunto dei direttori dei giornali, che hanno sempre questa cortina di libri, è un grande assente, cioè non lo si vede mai nella vita quotidiana. Sì, ma di fatti danno molto, a parte per una piccola... danno molto tristezza vedere delle case senza libri, quante case, tu dici la televisione, ma anche tante case senza libri, questi scaffali che è incredibile, insomma, si legge troppo poco, si legge troppo poco, anche perché, insomma, dovrebbe essere come le vitamine, non voglio dire sempre come si fa a buttare la croce sopra la scuola, la scuola, la scuola che deve, la scuola che deve. In effetti è una discussione che viene sempre fuori quando si insegna, e se ci sono gli insegnanti possono, non so, confermarmelo, è che bisogna dimostrare, perché in genere il ragazzo dice, ma io farò il perito, io farò l'ingegnere, io farò, non so, l'agronomo, cosa me ne faccio di leggere tanta letteratura, che cosa mi dà, io devo leggere delle cose che servano per il mio mestiere, che farò. E invece è proprio, a parte il fatto che poi se non li leggi lì, non li leggerai più, perché quando troverai mai il tempo, cosa fai dei corsi di recupero, di sostegno, per leggere, che so io, Dostoevsky, non avrai più tempo, insomma, quindi mi debba obbligare i ragazzi a leggere, dico non troppo, ma con attenzione però, con attenzione al testo, con attenzione alle parole. Io sarà che ho insegnato per una vita la storia della lingua italiana, quindi sarà un vice professionale, insomma sono molto legato anche all'aspetto formale, insomma, non dico di più, ma comunque in maniera particolare, con attenzione alle parole, perché ci si lamenta che le nuove generazioni appunto conoscono poche parole, che è grave, perché se hai poche parole, né in magazzini delle idee, né li puoi comunicare. Quindi già, e questo è dovuto al fatto che non si legge, voglio dire, la maggior parte dei miei colleghi sostengono i linguisti, che bisogna insegnare molto grammatica, non è vero, non è vero, certo che la grammatica va insegnata, ma senza il volano della letteratura, tu non insegni la lingua, perché, insomma, grazie a Dio un po' sappiamo scrivere, la nostra generazione almeno rispetto alle nuovissime, perché abbiamo letto tanto, quindi tu impari le parole e impari, oggi è ancora più preoccupante, sono le parole, do anche degli esempi, quindi insomma, penso che ho letto qualche tempo fa un bellissimo articolo sulla stampa, non chiedermi di chi e quando, perché, ma non è, dove si trovavano addirittura difficili le parole di Topolino, Topolino perché anzi ci vorrebbe un topo dizionario, diceva questa giornalista, perché in effetti Topolino ha un lessico, ho fatto anche un elenco che sono alti, che sono termini a volte colti, quindi voglio aggiungere una cosa, le parole, il leggere le parole, e quella poi la cosa più preoccupante oggi è la frana sintattica, cioè quello che preoccupa l'insegnante è che è difficile per le nuove generazioni, lui si dice oggi si scrive di più, eh ma loro sono bravissimi oggi insomma a fare gli esami eccetera, pronti, ma quando devono scrivere la tesina non ce la fanno, perché c'è un crollo sintattico, cioè la capacità, la non capacità di argomentare, di andare a capo, dirai poco e no, la ponteggiatura, e questo è dovuto anche al poco leggere, queste cose si imparna leggendo. Perché appunto il problema delle parole, il lessico, cioè noi in fondo noi esseri umani siamo ciò che parliamo, ciò che diciamo, noi non possiamo articolare dei pensieri a prescindere da una parola, cioè è difficile pensare una cosa, sì certo un'immagine, ma ci deve essere sempre una parola e soprattutto se non abbiamo la parola per nominare una cosa, la cosa non esiste, perlomeno nella comunicazione, no? Ecco, tu quello che lamenti nel tuo libro è proprio una restrizione del lessico, cioè una restrizione di quello che è il vocabolario nella testa di ognuno di noi, cioè ognuno di noi, la gente ha un vocabolario sempre più ristretto. Avere un vocabolario ristretto non è soltanto una questione di essere meno forbiti, è che semplicemente se tu hai un vocabolario ristretto non hai la capacità di osservare, di capire, di giudicare e di comunicare il mondo. Quindi un vocabolario povero significa un ragionamento povero, significa una massa sempre più strumentalizzabile, perché non hai gli strumenti per poter, come dire, affrontare e logistizzare il mondo. Tutto questo era per dire, secondo te, insomma, con la tua esperienza di linguista, di professor universitario, cioè quindi di militanza proprio della lingua, che cosa bisognerebbe fare invece per ampliare il vocabolario? Ovviamente leggere. Ovviamente leggere di più. Cercando di far, non so se trovo quella, volevo leggerti una cosa, perché si potrebbe fare un altro, molto più grosso, un altro libro, un'antologia, di tutto quello che gli scrittori hanno detto su questo punto. Ci sono tante testimonianze. Cioè, venirebbe riuscire a, non è facile, a far capire a un giovane che leggere per un verso è fondamentale per quello che stavi dicendo tu. Cioè, possedere più parole, essere padrone della sintassi, questo sì. Ebbè, quello è il primo passo, quello è il primo passo, capire le parole. Difatti, quando faccio gli esami, qual è la domanda più difficile che uno può fare? Non è tanto, dico, mi parli del se questo è romantico, se è neoclassico, ma dire che cosa vuol dire questa parola? Ecco, commentare è la domanda più difficile che puoi fare, cioè fermarsi. Quindi ha ragione, prima cominciare, questo è il primo passo. Ma c'è un... Se pensiamo, ecco, alle prime letture, ciascuno ha i suoi ricordi di infanzia, si capisce? Le prime letture che abbiamo fatto, quello che era l'incanto delle prime letture, io posso ricordarvi le mie, che sono certamente da mia età, non più delle nuove generazioni, ma insomma quello che abbiamo fantasticato e abbiamo immaginato, imparando anche le parole, ma leggendo i Pirati della Malesia, leggendo Salgari, leggendo Giulio Verne, poi Oliver Twist, che so io, queste cose, e poi anche l'Odissea, perché io avevo un'edizione dell'Odissea che mi aveva regalato mio padre, tutta illustrata, poi si riferiva come la scala d'oro che faceva, che la UTET stampava, insomma le prime letture. Poi a un certo punto, appunto, va avanti negli studi, ho cominciato a insegnare, e quello che cercavo di fare, è di riuscire a far capire a uno scolaro che a inculcare nei giovani quanto più si può l'idea che non occorre fare nella vita tutte le esperienze, tu ne hai una, hai la tua vita, ma leggendo, leggendo, leggendo molto, leggendo più libri, uno si rende conto che tutte o quasi tutte le esperienze sono state illustrate, sono state descritte. Quindi leggere molto non è soltanto, appunto, imparare più parole, imparare la sintassi, imparare la grammatica, ma provare questa dilattazione del mondo, vivere più vita insieme, insomma ci sono delle cose bellissime, dicevo, si potrebbe fare un'antologia citando da Tabuki, citando da questo magnifico libretto scritto da uno svedese, adesso un po' di anni fa, era un dantista, Lagerkranz, che dice, che dice, i libri che leggevo mi facevano vedere ciò che io non ero in grado di vedere da solo e incontrare personaggi che vivevano più intensamente e drammaticamente di quanto facessi io, erano creature di un mondo diverso e più elevato, si prendevano cura di me e mi permettevano di stare presso di loro e di essere attivo, ricco, povero, buono e malvagio come loro. C'è un altro passo di Tabuki, insomma, non voglio tediarvi, ma che è molto bello, dice, si può avere un grande amore, dice Tabuki, no? Si può avere un grande amore in una vita. È già una fortuna, due grandi amori è un privilegio che tocca a pochi, ma l'esperienza umana è estremamente limitata. E così dice, leggete, io non posso essere, ma se leggo, posso essere contemporaneamente, non so, sentirmi a un certo punto Anna Karenina, o vicino Anna Karenina, o Giulietta, o Romeo, che so io, o Emma Bovary, o Tristano, o Isotta. Voglio dire, ecco, il leggere aumenta, moltiplica la possibilità di vivere. Ecco, anche ha scritto, come il titolo era, sei passeggiata nei boschi narrativi, ecco, e passa in grassegna, dici, ecco, le letture che cosa mi danno? Ecco, per ampliare, ecco, non limitarsi soltanto alla lingua. E leggere è una cosa, è una cosa singolare, ecco, singolare. Per questo ho cercato di fare un elogio del libro, non della lentezza. Leggere con attenzione. Però tu, appunto, citi tabù, che cosa del genere, leggi queste cose qua, ecco, Lager, insomma, per i quali la lettura è qualche cosa di estremamente piacevole. Noi che siamo qua, in fondo al libro ci crediamo, e dici, oh, guarda, è vero, sì, possiamo vivere, eccetera, eccetera. Ma il problema, a questo punto, visto che la gente legge poco, è trasmettere questo piacere della lettura a qualcuno che questo piacere non lo prova. E questo è il grande, perché se no, alla fine, restiamo sempre tra di noi a dire che leggere è una gran figata, è vero, bellissimo, eccetera, eccetera. Ecco, come si fa, come è possibile far capire che leggere è bello, visto che è considerata un'attività sempre più superfa, secondaria, appunto, anche nella stessa scuola, no? Perché è una scuola che è sempre più utilitaristica, no? Cioè che deve servire a qualche cosa più che formare qualcuno, no? Ecco, come si fa a far capire che leggere è molto bello, a chi questo piacere non lo conosce? Ma, guarda, io mi ricordo, perché i manuali sono bellissimi, molto più belli di quelli che usavo io quando andavo a scuola, cioè sono i manuali bellissimi di storia, di geografia, di letteratura, eccetera, ma sono introdotti da un didattichese triste, noioso, inutile, proprio erbaccia da sradicare. Io mi ricordo che ebbe un supplente nel quarta ginnasio, un supplente da alcuni mesi, il quale non è che non spiegasse, però arrivava, apriva la sua cartella, apriva il libro e cominciava a leggere, e leggeva, e leggeva. Dopodiché a un certo punto, certo, chiudeva il libro, non volava più una mosca, insomma, non c'è bisogno di molto, ecco, beh, bisogna prendere dei autori che valga la pena, insomma, no? Lei leggeva, dopodiché, certo, si fermava a spiegare, perché bisogna stare attaccati ai testi. Il manuale, tutto sommato, serve fino a un certo punto, perché ti dà in pasticche, in pillole, tant'è vero anche ritornando agli anni della scuola, se ti facevano la domanda sul romanticismo, sul parlare di cose che non sapete, queste etichette, no? Il romanticismo, il neoclassicismo, o la personalità dell'autore, se qualcosa riuscivi sempre a dire. Quando invece i professori più bravi ti abituavano con indugio, con attenzione, con lentezza, a leggere veramente, diceva quello, cito anche quel grande dantista russo, Osip Mandelstam, che è morto in Siberia, molto in Siberia, diceva, è più facile, diceva, elettrificare tutta la Russia che insegnare a leggere Pushkin così come è scritto. Cioè, così come è scritto. Cioè, voglio dire, che diventa anche un gioco a un certo punto, da un punto di vista anche formalistico, se vuoi. ma poi è la grande scuola italiana che ha avuto come dei maestri speciali la stilistica che introdusse negli anni 50 in Italia Leo Spitzer, Leo Spitzer che fece scuola, il quale cominciò a spiegare il circolo ermeneutico, cioè che di fronte a un testo si doveva muovere, ci si doveva muovere dal cerchio al centro e dal centro qui al cerchio. Cioè, partire dai particolari, da minuti. Ci sono delle pagine, per esempio, che a me piace molto, di Gianni Celati, di Gianni Celati che cito nel libro quando per esempio parla di Tozzi, narratore, di Tozzi, narratore, e dice che Tozzi è maestro, che lo è, che so, gli descrive a un certo punto dei minimi dettagli nei suoi romani, un filo d'erba, un insetto, o una piccola foglia. Ma non è che stai a descrivere la foglia o il piccolo insetto o la foglia d'erba? E quindi lì parte e c'è dietro tutta una... È un po' come quando, per citare un enorme scrittore, come Lucrezio, e Lucrezio a un certo punto comincia a parlare di questa polvere che si vede sospesa e magari nell'aria quando un raggio di sole passa attraverso la finestra e lo illumina. Ma di lì parte per descrivere la struttura atomica dell'universo. Quindi un piccolo dettaglio per... E quindi questo modo di leggere che insegnò Leo Spitzer e che poi ebbe dei... Pensiamo alla grandezza di Gianfranco Contini, filologi di questa stanza, insomma, che l'attenzione, con l'attenzione al minimo dettaglio, l'attenzione alla lettura, alla parola, ma non è un fermarsi sul dettaglio, è dal dettaglio partire, perché se no costruisci quello che vuoi. Voglio dire, parti per la tangente di fronte a un testo e puoi dire quello che vuoi, che è un modo anche che ogni sta prendendo piede a volte, no? Così, insomma, andare fuori... Sì, uno può dire quello che vuole, per carità, ma il testo è quello. Infatti tu, a un certo punto, insisti su un esercizio che sembra la cosa più banale del mondo, che quando noi eravamo ragazzini era uno degli strumenti più usati nella scuola dell'obbligo, che è il riassunto, no? E dici, ecco, il riassunto, perché appunto il riassunto dice leggi un testo e fai il riassunto, no? Per far capire che cos'hai... Cioè, per scrivere che cos'hai capito di questo testo, nonché lettura e comprensione. Ecco, il riassunto, strumento straordinario, no? Per formare proprio... Perché uno dice leggere, ma leggere lo dai per scontato, ma in realtà anche per leggere ci vuole allenamento, come per camminare, come per correre, perché la mente deve concentrarsi sulle parole, altrimenti la nostra attenzione se ne va, insomma, cioè ci vuole allenamento. Ecco, il riassunto è uno straordinario esercizio, un po' come fare i pesi in palestra, no? Per imparare a leggere e a capire un testo. Ecco, tu ti soffermi a questo punto. Il riassunto invece è uno dei grandi scomparsi, no? Nella scuola di oggi. E chi meglio di me potrebbe rispondere sono gli editori, insomma, chi lavora in casa editrice, qui presente, perché lì Calvino era uno dei... Cioè, cos'era? Una cosa difficilissima è scrivere la quarta di copertina, che so io scrivere, e diceva Calvino, è fare in poche righe il riassunto dell'Orlando Furioso, è mica... Però non ci riusciva, no? Si riusciva. E quindi il riassunto è proprio una... Bisogna saper scegliere le cose essenziali e in maniera succinta. Di fatti, parlo anche in questo libro a proposito della scuola, che io sono molto lieto che sia stata... Perché sembrava che dopo il Covid questa prova saltasse, invece è stata reintrodotta. Cioè, io non è che sia nemico del tema, però il tema è un qualche cosa che permette di andare fuori strada, Di... Siamo stati tutti bravi, no? Con questi temi, a volte anche insulti, ma mettevamo su delle cose. stupendo. E andavi fuori strada, insomma. Invece questa... La prova che secondo me è buona anche per la maturità, cioè dare un breve testo da commentare, sia prova sia poesia, che è stata reintrodotta questa prova, che a un certo punto non è che puoi andare fuori, sì, ti danno delle indicazioni, però devi stare al concreto. È la concretezza che manca. Voglio dire, come uno... La nostra scuola è stata troppo, troppo... Nostra scuola, nostra cultura, insomma, dai tempi di Croce, innamorata dei concetti. E quando continui diceva è come appunto un medico che però non ha mai tastato un polso, non ha mai sentito un battito cardiaco, non ha mai fatto... No, bisogna lavorare sul concreto. E lì scatta per un verso la concretezza, si capisce, per l'altro verso la passione. La passione per come un testo è scritto, perché tu che poi, insomma, quanti romanzi devi, ecco, per tuo passare la segna, vedere, eccetera. Cos'è che fa la bellezza di un romanzo? Ma anche di un film, cioè... Non tanto la storia, perché come dicevo prima, tutte le storie, in tutto sommato, sono già state raccontate, ma come è montato e come è fatto quel romanzo. Lì c'è quel dialogo bellissimo di Primo Levi con Fausone, quando tutti e due, ecco, che sono innamorati del fare, uno della scrittura, l'altro del fare, del montare le gru, bellissimo dialogo, cioè l'importanza del come è fatto, cioè l'importanza è certamente quello che si dice, è certamente più importante ancora, ma non è quello che fa la bellezza, l'importanza di un libro, di un romanzo, è come, dici, anche un film. Quante vuole? La bellezza di un film è come quel film è montato, poi le storie sono, quindi l'attenzione al... perché lo scrittore si capisce come uno scultore è innamorato del marmo o della pietra che sta, o come il pittore del colore che sta usando, così lo scrittore è innamorato della parola, perché se non è innamorato della parola, che scrittore è, voglio dire? Non per gioco, mica Gadda scriveva come scriveva, perché, la sua scrittura era legata alla volontà sua di descrivere il caos, il grottesco, eccetera, eccetera, insomma, quindi essere innamorati di come, è un po' come lo scrittore, come, non so, chi costruisce un violino, un diutaio, che mette lì, 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 fa, rifà, senza mettersi, certo, una vita come, come era in un tempo di scrittore, insomma, Manzoni scrive per una vita, un capolavoro, si mette una vita, adesso, che si parlava prima del mercato, insomma, è anche brutto per lo scrittore, oggi questa fretta, e non è che si possa tornare indietro, però, insomma, voglio dire, lo scrittore sa che, per, se gli va bene, e questo suo romanzo, sta sei mesi su uno scaffale, se gli va bene, cioè, è proprio la durata che è entrata in me, perché, l'oggi, questo si capisce, però, anche dalla parte dello scrittore, questa non lentezza, è un problema, ma, il libro finisce anche così, insomma, a certo punto. senti, il, appunto, il luogo, il luogo da cui tutto parte, però, alla fine è la scuola, perché è la scuola che ci insegna a scrivere, ci insegna a leggere, ci insegna a balbettare le prime sigle, eccetera, eccetera, tu, in questo libro, fai una critica, anche abbastanza feroce, alla scuola di adesso, ma su un punto, secondo me, importante, che la scuola ha perso severità, cioè, è diventata troppo permissiva, no? E questo, l'assismo della scuola, ha tante conseguenze, innanzitutto, anche il lassismo, provoca una, una disparità sociale, perché il lassismo, in realtà, favorisce la disparità, giusto? Sì, questo, proprio sul capitolo della scuola, lo dico, citando, insomma, adesso, il luogo della scuola, è chi ha il potere oggi, sono i pedagogisti, sono i pedagogisti che hanno il potere, e i pedagogisti sono quelli che a un certo punto, non so se te lo ricordi, se ve lo ricordate, quando hanno inventato all'università, io insegnavo ancora, che ci volevano i saperi minimi, cioè bisognava, che la tesina non doveva essere più di tante pagine, che non doveva contenere più di tante parole, che bisognava ridurre al minimo, all'osso, in funzione, poi, del lavoro, per non stancare troppo, ragazzi, c'è tutto, riporto anche i passi della commissione, di Roberto Maragliano, insomma, di una disciplina, bisognava stabilire i saperi minimi, e avanti di questo passo, insomma, questo passo, in questa parte del libro, a cui tu alludevi, dico semplicemente, ma è una cosa sulla quale dovremmo essere tutti d'accordo, che il problema della disuguaglianza di questo mondo, perché esiste la disuguaglianza, dal punto di vista sociale, dal punto di vista degli agi, della ricchezza, eccetera, il problema della disuguaglianza, non si elimina abbassando l'asticella, neanche alzandola troppo, ma tenerla a un livello di itoso, a un livello non massimo, ma a un livello notevole, insomma, la scuola non può essere soltanto, così, un qualcosa di rassicurante, per il ragazzo, che non deve stancarsi troppo, e se no le mandano, le protestano, eccetera, insomma, voglio dire, io non credo che siano soltanto ricordi miei personali, ma i miei compagni di liceo, che venivano da classi umilissime, hanno fatto poi delle strade, chi è diventato bravissimo economista, chi è un magnifico avvocato, eccetera, perché sono stati allenati, non ai saperi minimi, ma sì, hanno studiato, ci sono presi tanti due di greco, come ci siamo presi tutti, ma insomma, questo ci ha spronato a, ecco, a una certa disciplina, lavorare di più, per carità, non me la sto prendendo con i giovani, oggi i giovani sono bravissimi, sono più bravi di noi, perché hanno, ecco, appunto, proprio dalla velocità, hanno a disposizione dei mezzi veloci, queste autostrade elettroniche, che li portano in casa, batti da un click, e tu hai tutta la biblioteca del congresso di Washington, la biblioteca nazionale di Parigi, e per carità, insomma, voglio dire, ma, sì, questo abbassare l'asticella, abbassare l'asticella, è veramente un grosso guaio, e su questo non ho dubbi, insomma. Il paradosso di adesso è appunto, che mai come oggi tu hai a disposizione facilmente, un facile accesso ai testi, cioè, appunto, quando, anche solo vent'anni fa, trent'anni fa, per uno che studiava una letteratura staniera, avere, poter leggere un romanzo, che ne so, ungherese, tu studiare un ungherese, cioè, devi andare a Budapest, adesso fai un punto, clic, e hai tutta la letteratura ungherese a portare in mano, e quindi hai un accesso straordinario, però paradossalmente, paradossalmente succedono delle cose, perché, il mio ultimo capitolo, porta come titolo, se ricordo, sapere che c'è una enorme differenza tra disponibilità ed uso, tu oggi hai disponibili, hai disponibile tutto quello che vuoi, insomma, io l'avessi avuto io, quando studiavo le allitterazioni dantesche, insomma, terzina per terzina, con la matita, adesso, insomma, metto una stringa, e viene fuori, automaticamente nel giro, insomma, voglio dire, dei vantaggi enormi, quindi la disponibilità è enorme, gli scaffali elettronici, questa biblioteca straordinaria, insomma, una grande fortuna, una grande fortuna, quindi, dato che, la mia lentezza, voglio dire, io sono, difendo questo tipo di velocità, ci mancherebbe, ci mancherebbe, non è che scaricando tutto il lessico petrarchesco, tu a un certo punto lo puoi, l'altra cosa è l'uso, cioè vuol dire, tu lo devi conoscere come prima, avere un senso critico del periodo storico, devi avere un senso critico per mettere insieme e ricomporre tutti questi dati, perché il dato è un dato brutto, tutto sommato, hai il vantaggio di averlo a disposizione, ma non è cambiato poi nulla, quindi senza senso critico, senza cultura, non fai nulla, quindi, insomma, e mi sembra, e quindi ho dedicato sì una parte a questa cosa, sì, perché è una cosa avere tanto a disposizione, è una cosa saperlo usare, e questo si vede anche di nuovo facendo a scuola, perché proprio anche nelle tesi di Laura, molti pensano che sì, tutti scarichi, e no, non basta, sei fortunato perché ce li hai, ma devi saperli usati. E ci vuole sempre quello scatto, diciamo, della personalità, del passare dal disponibile al voler, cioè quella volontà che poi è quello che ci rende umani, senti, uno degli altri punti che tu tocchi in questo saggio, è la funzione dei classici, i classici, la funzione insostitibile dei classici, perché i classici non sono detto tutto, ma ci dicono ancora tanto, ecco, perché i classici, secondo te, sono così importanti? perché è importante leggere Lucrezio appunto, quando sappiamo come funziona un atomo, e lo possiamo, come dire, scomporre, eccetera, eccetera. Dunque, parlavo prima, dicevo prima, ma questo, parlando della narrativa, che, parlando, insomma, che nel senso della durata, è saltata, tanto si facevano delle costruzioni, che dovessero durare, anzi, adesso meno dura, non meglio è, perché se fai il romanzo, deve esserci subito l'altro che lo sostituisce, la durata. Una cosa che è andata in crisi, è, cioè, si vive sul presente, lo spessore storico, quello che sta dietro, alle spalle. Posso fare un esempio concreto? Guarda, se lo trovo, lo faccio volentieri. Se tu leggi una poesia famosa, Ungaretti, Ungaretti, ci stavano Ungaretti a un certo punto, quella famosa similitudine che fa in allegria di naufragi, la raccolta di soldati, famosa, si sta come d'autunno, eccetera, eccetera, va bene, ma non sarebbe venuta fuori, se Dante, nel terzo dell'inferno, quando Caronte appunto raduna tutti coloro che, i morti, da portare di là, inferno 3, come d'autunno si levano le foglie, comincia Dante, come d'autunno si levano le foglie, l'una, non ricordo più, l'una presa l'altra, l'una presa l'altra, fin che il ramo, fin che il ramo, eccetera, insomma, fin che il ramo, e va bene, ma Dante a sua volta, questo suo verso, questa sua terzina, l'aveva presa, da Virgilio VI, canto sesto, il quale a sua volta l'aveva preso, da Iliade VI, canto sesto, voglio dire, che c'è come un coro sotterraneo di riprese, citazioni, che non sono copiature, evidentemente, che non sono citazioni nude e crude, ma è un riscrivere come una stessa, ecco, uno stesso pensiero, uno stesso, quindi i classici, concretamente, sono, la letteratura, è uno scrivere libri, usando altri libri, altri libri, cioè senza, senza questi classici, che ci sorregono, ma questo è successo, è successo sempre, tutti i templi più importanti sono stati tirati giù e con questi marmi sono state fatte altre case, è sempre andato avanti così, insomma, a volte pensiamo, guarda qui che rovina, sì, rovina, ma intanto questi marmi sono serviti per fare altre case, queste case sono, quindi la letteratura è una sorta di meravigliosa rapina, di riprese, di, 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 e quindi i classici, e questa cosa sta anche forse offuscando, questo modo di leggere, perché non leggendo più i classici, Gusti lo, evidentemente, anche la poesia di Ungaretti, ma non c'è più questa, come la chiamava il citato Osip Mandelstam, lui diceva, questa tastiera rammemorativa la chiamava, cioè questa armonica, queste armoniche che risuonano e che tengono insieme testo con testo, eh, testo con testo. Dicevamo, cioè si legge, si legge poco, insomma, e poi in realtà anche questo non è vero, cioè siamo in una situazione paradossale, perché per citare uno che tu citi, e anche un nostro, un mio collaboratore, che è Maurizio Ferraris, Maurizio Ferraris dice non si è mai letto così tanto nella storia dell'umanità come adesso, che è vero, perché leggiamo continuamente, anzi, certo, spesso anziché parlare leggiamo i messaggi, quindi si legge davvero tanto, quindi, scusa, e si scrive tanto, e si scrive tantissimo, perché anziché parlare quindi il problema anche qua non è dell'abbondanza, ma è della qualità, cioè la lettura, la scrittura appunto, mai l'umanità ha scritto e letto così tanto, però in realtà è come se si leggesse poco, perché manca, manca quella lentezza, quella concentrazione che ci vuoi fare. ecco, ecco, un altro punto del tuo, un titolo di uno dei tuoi capitoletti è il vedere versus leggere, eccetera, eccetera, che anche lì noi viviamo in una società dello sguardo, vediamo, vediamo, lo sguardo è un qualche cosa di veloce che ci porta anche a essere superficiali, la lettura invece è un qualche cosa che ci porta a essere più introspettivi, di affermarci sulle cose, giusto, no? Eh sì, è un capitolo, capitolo terzo, sì, il vedere contro, il vedere contro, il vedere, oggi è l'età dell'homo videns, l'homo videns, si vede di più, si guarda di più, telefonino, televisione, piccoli e grandi schermi, eccetera, rispetto a leggere, stanno vincendo il vedere, e infatti sono bravissime le nuove generazioni, cioè vedere come sanno manovrare, il leggere, diceva Quintigliano, dell'istituzio oratoria, che ti fa masticare meglio, diceva, cioè digeri e digerire meglio, cioè il vedere, tu leggendo, gestisci meglio, quello che stai leggendo, cioè puoi fermarti, tornare indietro, sottolineare, continuare, fermarti, ripensare, sei tu che gestisci, quello che stai facendo, il testo, il vedere, che è più rapido, sta più in superficie delle cose, certo che può magari emozionare di più, se vedi un bombardamento, insomma, un missile che ti arriva sul, voglio dire, morti, queste cose che vediamo, insomma, soprattutto in questo periodo, nei giornali, eccetera, di vedere, ma poi lo dimentichi rapidamente, lo dimentichi di più, lo dimentichi di più, io penso, il leggere, ti rimane, va più a fondo, insomma, ecco, il leggere, per carità, non voglio con questo fare il passatista, perché poi il mondo è sempre andato avanti, vincerà l'homo videnz, sul, non è mai successo, si pensava che, insomma, la fotografia avrebbe ammazzato la pittura, invece non è successo niente, ha continuato la pittura, non è che il vedere ammazzerà il leggere, penso proprio di no, però il leggere ha questo vantaggio, ha questo vantaggio che ti fa stare più, penetrare di più nelle cose, perché sei tu, tra l'altro, che gestisci, invece vedi e poi, e porti anche, e succede anche un'altra cosa, il vedere, che tu puoi gestisci, se hai della televisione, zapping, eccetera, salti di qua e di là, se la cosa, è anche bello, avere lo zapping, se è un programma orrendo, tu scappi subito, un personaggio, che non puoi sopportare, ce ne sono tanti, e voglio dire, però sbricioli un po' il mondo, cioè vuol dire, il leggere ti viene più agganciato a quello che succede, il vedere ti porta tutto, un po' sullo stesso piano, per cui non riesci più a volte a capire quello che è vero, e quello che è soltanto un'opinione, o è falso, insomma c'è una discussione lunga, adesso non voglio banalizzarla, ma è un po' questo che cerco di approfondire in questo breve capitolo. In tutto questo che noi stiamo dicendo, appunto del leggere, della lettura, in questo, come dire, affastellarsi, classici, eccetera, io credo che poi alla fine tutto questo sia poi un problema di riappropriarci di noi stessi, cioè perché la cosa difficile poi è essere concentrati su noi stessi, cioè essere noi stessi, essere noi stessi nel presente, mi viene in mente una cosa paradossale, appunto a proposito del guardare le cose del genere, un passo che citava, l'ho letto adesso l'ultimo libro di Zizek, ma volevo citarlo, è paradossale per quello che voglio dire, cioè si parla di eros, di sessualità, eccetera, eccetera, a un certo punto lui racconta questo aspetto paradossale di un rapporto sessuale che a un certo punto si interrompe, perché si viene a perdere l'eccitazione e per recuperare l'eccitazione entrambi i partner devono andare a guardare un videoporno sul telefonino. Allora lui cita questa cosa, io non so se sia vera o meno, cita questa cosa come paradosso di quella che è la modernità, cioè della perdita di quello che è il rapporto di noi stessi con il presente, cioè tu sei appunto con il tuo fidanzato o la tua senfidanzata in una situazione diciamo vagamente erotica ed eccitante e per poter eccitarti devi andare a vedere qualche cosa che non ti appartiene più, cioè è una perdita del sé, è una perdita dell'io, è una perdita della consapevolezza dell'istante in uno sfarinamento del tempo, della coscienza, della personalità, eccetera, eccetera, cioè quello che noi, io credo, quello che noi stiamo vivendo nella società moderna al di là di tutto e quello che invece la lentezza ci dovrebbe far recuperare è proprio questo sfarinamento, cioè del perdere noi stessi continuamente, ci perdiamo appunto in visioni sempre più frammentate e continue, in un bombardamento di messaggi che non sappiamo neanche più bene cosa stiamo facendo, cioè perdiamo il centro, quando le mamme dicevano ma no, stai concentrato su quello che stai facendo e davano anche uno scappellotto alle vecchie mamme, ecco quella roba lì, leggere è quello scappellotto della mamma, cioè stai concentrato su una cosa, fai quello. Sì, è vero, un po', anche io un po' finisco, sono tornato, non su questo tema, finisco anche un po' così il mio piccolo libro perché dice, dico, a un certo punto, guarda, tutto sommato i veloci, i frenetici ci danno un grande aiuto perché senza di loro insomma sono dei tecnici bravissimi, ci rendono la vita più facile, più, però tutto sommato cerchiamo di, di stare il meno possibile con loro perché queste ansie di prestazione, questo, 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 questo voler produrre di più, sempre più rapidamente, sempre più, non svuoteranno un po' le coscienze del nostro, del nostro futuro, non svuoteranno le nostre coscienze, insomma, voglio dire, io non sto dicendo che la cosa più bella è il dolce far niente, per carità, non sto dicendo questo, che la lentezza è in questo senso, per carità, ma sto dicendo invece in questo mio libro che bisogna rallentare e per stare più con noi stessi e anche per contemplare di più quello che ci sta intorno e concludo dicendo quando è stata l'ultima volta che avete visto qualcuno guardare fuori dal finestrino, viaggiamo tutti, ma chi guarda ancora fuori dal finestrino? No, tutti, vabbè, è il telefonino, è il computer, ma non sanno dove stanno passando e piacciono di più quello che si vede guardando il telefonino, insomma, non credo che sia un bene questo, no? Assolutamente. grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.